Nessuno come Taurino, la Virtus Francavilla si gode e si coccola il suo allenatore che ha avuto un avvio come nessuno. Sei punti dopo le prime quattro partite e un piccolo nuovo record stabilito. Sì, perché il Francavilla mai era riuscito a raccogliere così tanti punti all'avvio della stagione. Una partenza positiva che è il frutto del grande lavoro svolto dal tecnico Salentino. Merito ovviamente anche del suo staff, ma soprattutto della società, che ha deciso di puntare su di lui ad inizio campionato ingaggiandolo con l'arco anticipo. La programmazione infatti è sempre stata la chiave di volta di questo club che grazie alla lungimiranza sono riusciti a costruire una piccola fortuna a Francavilla Fontana. Quello che però convince di più in assoluto di questo club è la grande identità. La squadra gioca bene e c'è davvero tanta intesa tra le parti, specialmente tra il centrocampo e l'attacco, cosa che probabilmente è mancato nell'ultima stagione. Il cammino però è ancora lungo e il Francavilla non deve assolutamente illudersi, ma anzi continuare su questa scia per far sì che tutto questo non sia soltanto una falsa partenza. La squadra gioca è un'ottima stagione.